E' con l'opera di Giuseppe Verdi, La Traviata, che si è conclusa la prima stagione 2009-2010 della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, aperta il 6 dicembre scorso con la Turandot. L'opera della regista Elena Barbalich, con l'orchestra diretta dal maestro Boris Brot, segna il ritorno di Verdi nel Politeama barese. Quest'opera infatti non veniva rappresentata nel Petruzzelli da 21 anni, più precisamente dall'aprile del 1989. L'ambientazione 2010 dei tre atti è astratta, come ha dichiarato qualche giorno fa la regista, e gli artisti indossano abiti contemporanei per la grande storia d'amore tra Violetta e Alfredo. Di qualità il cast dalla protagonista, interpretata da Nora Anselm, che ha dato al personaggio credibilità con una bella voce ed un'eccellente tecnica, all'Alfredo di Riccardo Bernal, anche lui dotato di una forte presenza, e poi Luca Salsi nel ruolo di Giorgio Germont, Chiara Fracasso in quello di Flora, Miriam Martiaco in quello di Annina. Le repliche dell'opera andranno in scena oggi, domenica 31 ottobre, il 2 e il 3 novembre. Sul palco, per la direzione musicale, anche il maestro Giuseppe Lamalfa. Gli interpreti invece saranno sostituiti anche dall'Anacos nei Panni di Violetta, Francesco Marsiglia in quelli di Alfredo e Simone Piazzolla per Giorgio Germont. Grazie a tutti.